Addirittura d'arrivo per l'opera urbanistica più importante dell'ultimo decennio per la città di Fano, sia dal punto di vista della mobilità che da quello finanziario. Stiamo parlando dell'Interquartieri, 3 milioni e 300 mila euro di base d'asta per complessivi 8 milioni di euro di spesa finale se consideriamo la corposa componente degli espropri. L'opera partita nel 2013 nella fase iniziale ha subito, causa il pato di stabilità, una velocità di avanzamento lavori un po' a corrente alternata e successive varianti al progetto in corso d'opera hanno portato la consegna dell'Interquartieri ai giorni nostri, registrando comunque un forte impulso in avanti negli ultimi 24 mesi, vuoi decreto sblocca Italia, vuoi azione sinergica dell'amministrazione. Siamo a buon punto, i lavori sono pressoché finiti, sono in corso in questi giorni, proprio in questi giorni collaudo delle strutture che tengono in piedi i pannelli e quindi poi seguiranno i collaudi delle fogne, i collaudi e i provini che si fanno di carotaggio per verificare che l'asfalto sia stato fatto bene e quindi il tecnico collaudatore ha un po' di tempo per concludere, dopo aver fatto questa ispezione, per concludere il collaudo. Non appena ovviamente la ditta avrà consegnato il certificato di opere finite, il collaudatore avrà verificato che tutto bene, saremo pronti a riaprire questa nuova arteria della città, per cui non appena sarà possibile, l'apriremo senza dubbio, un minuto dopo che il tecnico di direzione lavori mi dirà che i lavori sono terminati. Quindi rispetto anche alle dietrologie, sentite in questi tempi, in realtà i lavori ancora stanno proseguendo, sono piccoli, quasi invisibili, però i collaudi sono in corso e quindi si devono fare, è necessario, perché un'opera così costosa, tanto attesa, necessita di prendere tutti i certificati a finire in maniera tale che l'opera, possiamo essere certi, sia completata nel miglior modo possibile. L'assessore non si sbilancia sulla data per il taglio del nastro, anche se leggendo tra le righe, terminati i collaudi e messo tutto nero su bianco, il gioco è fatto. E hai visto mai che magari per agevolare la consegna dei doni ai fanesi non si apra giusto per Babbo Natale e le sue renne?